Soprattutto nella ricostruzione che faccio nel gioco delle ombre propongo una versione che mi fu data dal figlio di alcuni emissari dei servizi italiani, che non sposo, mi limito a presentarla perché contiene degli elementi interessanti di riflessione, vale a dire viene confermata la pista inglese nell'esecuzione sommaria di Mussolini, mi riferisco a David Derek Wilkinson, che sarebbe l'agente, nome in codice Shadows, quindi Ombra, che sarebbe stato colui che avrebbe proprio partecipato fisicamente all'eliminazione fisica di Mussolini, in sinergia con sicuramente uomini del Partito Comunista Italiano. E quindi in questa ricostruzione, che io ripeto mi limito a presentare ma non ad avallare, perché presenta degli elementi di riflessione da incrociare con altri riscontri, questo agente dei servizi italiani, nome in codice Aquila, che sarebbe stato poi il bisnonno di questo mio terminale, avrebbe coordinato una squadra di agenti italiani che sarebbero rimasti fedeli al duce anche dopo il 25 luglio, per cercare di arrivare in tempo prima che fosse assassinato. Poi, e quindi in questa dinamica e in questa narrazione, la morte di Mussolini sarebbe stata causata da un veleno, la conitina, che dopo che Mussolini fosse stato torchiato, sotto tortura quindi da parte di elementi britannici in sinergia con i comunisti, che arrivano a Bonzanico di Mezzegra a Casa De Maria, nella prima luce dell'alba, nella notte tra il 27 e il 28 aprile del 45, dopo averlo torchiato e non aver avuto le risposte o aver ottenuto, questo non è dato sapere, Mussolini sarebbe stato avvelenato con questa quantità irrisora di aconitina e poi sarebbe stato finito a colpi di arma da fuoco. E lo stesso agente Aquila, ascendente di questo mio terminale, avrebbe poi vendicato Mussolini, Mussolini sarebbe stato vendicato il 16 giugno del 1952 a Londra, proprio dagli stessi agenti che non erano riusciti italiani, rimasti fedeli al Duce, che non erano riusciti ad evitargli la morte perché non arrivati dopo gli inglesi e i comunisti. Stando sarebbe stato quindi vendicato e questo responsabile britannico della morte di Mussolini, David Derrick Wilkinson, sarebbe stato isticato al suicidio nel suo appartamento di Londra da questo agente. Questa è la tesi che presento, ma non avallo all'interno del volume e che ho cercato di incrociare con quelli che sono stati i rilievi che tu, molto interessantemente, hai dato all'epoca con Mario Altieri, legati al memoriale di Luigi Canali, volgarmente detto Neri, Nome in Codice Neri, pubblicati nel 2022, a parte tutte le tue ricerche che hai fatto, il tuo motivista archivistico è il più grande accumulatore di notizie importantissime sull'ultimo Mussolini. Che ci sia stata quindi quella cabina di regia britannica mi sembra un dato di fatto ormai incontestabile. Il riscontro interessante a livello incrociato tra la ricostruzione che presento di Marco Aurelio Felix, il nome in codice di questo mio terminale, è la versione di Mario Altieri, quindi di Salieri, che è lo pseudonimo di Mario Altieri, sul fatto che suo nonno materno, l'Antonio Neri, amico di Luigi Canali, da cui avrebbe preso pure il cognome, il nome di Battaglia, prima aveva un altro nome questo qui, non mi ricordo, tra l'altro lui ne parla nel testo, ne aveva preso un altro, non mi ricordo qual è. Comunque combacerebbero il fatto della presenza di una o due donne, che nel resoconto di Luigi Canali non viene detto di che nazionalità fossero, perché riferisce quello che gli dice Sandrino, uno dei due carcerieri di Mussolini rimasti fuori dalla porta in quella notte, alba del 28 aprile del 45, Sandrino e Lino, Lino poi finirà in circostanze misteriose, finirà ucciso ufficialmente, si spara da solo, mentre ha un appuntamento con Neri. Esatto. Quindi la presenza di questa donna all'interno del commando che va direttamente da Mussolini e dalla Petacci, da cui poi scaturisce la morte di Mussolini e poi tutti gli abusi sulla Petacci. Abusi sessuali che vengono confermati in maniera puntuale dal memoriale di Luigi Canali, pubblicato da Mario Altieri, e che sono tra l'altro alla base di quella che è una domanda che un uomo di media intelligenza e raziocinio si è sempre posto, per quale motivo non è stata fatta l'autopsia sul cadavere di Clari e di Petacci? Ce lo devono spiegare, lo devono spiegare all'intelligenza italiana, perché manca il confronto dell'intelligenza italiana su queste cose. Perché è stato fatto mancare da 80 anni? Perché sul cadavere di Mussolini si regge, e sul cadavere di Clari e Petacci si regge l'intera impalcatura dello Stato italiano contemporaneo. E questo mi pare che nessuno lo possa contestare. Ecco perché la morte di Mussolini mi disse Leo Valiani, quando lo incontrai alla Fondazione Feltrinelli nel 1991, io facevo delle ricerche proprio sul Tibro su Saragat, il mio correlatore mi mandava spesso lì, alla Fondazione Feltrinelli, e lì incontravo Leo Valiani, che camminava senza scorta e veniva a fare delle ricerche con i suoi 80 anni che aveva all'epoca. E io lo fermai, queste cose sono state pubblicate da Festorazzi quando mi fece l'intervista sulla provincia di Como, sulla famosa intercettazione telefonica transoceanica del 29 luglio del 43, tra Churchill e Roosevelt, questa intercettazione telefonica transoceanica, 29 luglio del 43, in cui ci sarebbe stata la prefigurazione, ripeto, di quella che sarebbe stata la fine di Mussolini, da parte britannica, il fatto di non rimanere vivo. E quindi in questo articolo in cui si parla di questa intercettazione telefonica transoceanica, io poi rivelo la confidenza che mi fece Leo Valiani, che incontrai alla Fondazione Feltrinelli, ci sono anche i registri, se uno volesse andare a conto lo può fare, perché io firmavo, immagino che l'abbiano conservato, lo vedevo a lui e l'ho fermato, sapevo che lei era nel comitato insurrezionale, tra l'altro, e sapevo che lei, gliel'ho detto che lei era un agente coperto dello Special Operation Executive, col nome di James Betterdell, se non mi ingana la memoria. Allora gli faccio questo, io avevo all'epoca, 20 quanti anni avevo, nel 91, 95, 25, 26 anni, non avevo compiuto 26 anni. E quindi gli faccio questa domanda, me la dice come è stata la storia della morte, visto che lei era con Emilio Sereni, con Luigi Longo, insomma era uno che, con Pertini, uno che andava per la maggiore, lui mi dice guardi, mi fece questa confidenza, la morte di Mussolini è un segreto e deve rimanere un segreto. Gli inglesi hanno suonato la musica e i partigiani comuni si sono andati a tempo, questo mi disse. E mi riassunse in quel momento di lucidità, che io non so neanche come ho fatto ad ottenere, queste cose le riferì a Renzo De Felice io, le riferì, lui poi, e lui mi disse, lo so perfettamente, ma non lo puoi dire perché non ti crederebbero, questo mi disse lui. e mi affidò, diciamo per così dire, due missioni. La prima con Giorgio Rumi, che era all'epoca professore di storia contemporanea alla Statale, e l'altra con Miglio, perché a Villa Miglio sarebbero transitati documenti legati al carteggio. E io con Miglio ho dato due esami, storia delle dottrine politiche e scienza della politica, all'epoca era preside di facoltà. Parliamo 1986-87-87-88. Con Giorgio Rumi invece, poi incidentalmente, andai con mio padre, venne a sapere che poi lui era in realtà forse il figlio di Luigi Rumi, il direttore della Cariplo di Domaso. Perché le carte di Mussolini, le borse di Mussolini, le tre borse, non parliamo della borsa di Marcello Petacci, finiscono prima alla Cariplo di Domaso, portate da Bill e da Pedro. Poi finiscono a Geralario, nella chiesa, e poi dove finiscono da ultimo? Finiscono a Milano, nella tipografia dell'unità, nello studio fotografico dell'unità. Prima Cariplo di Domaso, gestita, diretta da Luigi Rumi, poi finiscono sotto l'altare della chiesa di Geralario e poi finiscono a Milano, dove c'è Ugo Arcuno che le fotografa. E non sappiamo anche lì quante copie fotografiche ha fatto. Parliamo che hanno potuto essere duplicatori ad alcol, ma lì si tratta invece di una fotografia professionale. Attenzione, non confondiamo lo studio di Ugo Arcuno con la fototecnica Ballarate, dove tu mi insegni, che era un'altra cosa. Lì hanno, nella fototecnica Ballarate, hanno riprodotto il carteggio. Esatto, e lì c'è Dante Correri, Luigi Carissimi Priori, tutta quella storia che hai avuto modo tu sicuramente di sviscerare e che ha visto il protagonista in positivo Roberto Festorazzi, cui vi ha dato il merito di aver nel 1996, quando uscì il testo del Minotauro, parlato per la prima volta. Poi c'era stato Andriola e Cavallero con Ombre del Lago, se non ricordo male, che sono stati i primi due testi. Ma questa storia del carteggio, a me Renzo De Felice la disse tranquillamente. E lui la disse, tra l'altro, se non ricordo male, anche prima di morire, la disse in diretta a Bruno Vespa, che lui intervistò durante un TG1 serale tra una partita di calcio e un'altra. Bruno Vespa chiamò Renzo De Felice e lui gli disse che era convinto che una copia fosse anche in Italia. Poi mi disse altre cose che io non ti posso dire qui perché sto pubblicando un testo e non posso. Ecco, ma a te personalmente il prozio Renzo De Felice ti ha fatto qualche confidenza su cose che poi non ha scritto, non ha potuto, non era sicuro. Lei ce la puoi raccontare? Certamente. Mi disse tranquillamente che il discorso delle carte di Guareschi De Toma erano per lui vere. Erano autentiche? Assolutamente. Me lo disse, io me lo ricordo, eravamo a casa sua a Via Antonio Cesari, era il 1986. C'era stato un convegno sullo stalinismo in cui c'erano stato Lucio Colletti e lui credo che fossero stati invitati, prattocinato da Bettino Craxi che non erano stupido e che è stato il massimo ombrello protettivo per quella che era una storiografia libera. E me lo disse e poi intervenne in sua moglie, ero con mio padre anche in quell'epoca e il suo cane Attila che era il boxer che lui chiamava e mi disse questa cosa qui e io poi ho avuto modo di appurarlo. Ma lui aveva poi la pista di Piero Puccioni, di Bruno Piero Puccioni perché successivamente, 87-88, c'è quello scambio con Puccioni, con l'avvocato di Firenze che era amico, tra l'altro nipote di Dainelli, Duccio Dainelli, che lui, Bruno Piero Puccioni, con Luigi Parrilli, con Renato Cigarini e con Alfredo Pizioni sono i quattro civili in quel contesto strategico, i quattro soggetti fondamentali, Luigi Parrilli per le trattative con l'OS, con Allendhulz Berna, quindi Luigi Parrilli e parliamo di soggetti importantissimi, Renato Cigarini per i soldi che arrivano al Partito Comunista dal tesoro di Dongo e poi probabilmente anche dalle carte, ecco perché per me i documenti importanti sono ancora in Svizzera, sicuramente, se non in originale fotocopiati o fotografati per i metodi dell'epoca. Abbiamo parlato oggi di Giovanni Zust e quindi tutta la vicenda legata alle forze della Repubblica Sociale e ai Corrieri che tra il 44 e il 45 e voglio parlare di Vittorio Ferrari che muore in circostanze misteriose anche lui e che viene intervistato da un illustre personaggio, viene intervistata la moglie che gli riferisce e gli dà conferma di alcune cose. E sulla morte di Mussolini ti ha detto qualcosa a Renzo De Felice? Le cose che poi disse a Pasquale Chessa. La morte di Mussolini ti ha detto a Pasquale Chessa.